Ci è voluto un po' di tempo per quadrare la situazione, però oggi arriviamo al punto cruciale. Oggi ho rassegnato le dimissioni da Presidente del Consiglio Comunale e quindi il 21 di ottobre, nella prossima seduta, sarà eletto un nuovo Presidente. Voglio ringraziare per la collaborazione con la quale abbiamo condotto i lavori in questi 16 mesi di attività le due Vice Presidenti, Barbara Brunori e Marta Ruggeri, perché con loro abbiamo lavorato bene, abbiamo condiviso questo percorso e c'è stata ampia collaborazione e anche nel rigore e nella sobrietà ci siamo contraddistinti andando molto d'accordo. Sono onorato del ruolo che mi è stato affidato di guidare il Consiglio Comunale di Fano da parte del Consiglio Comunale. Ho ricoperto questo ruolo con impegno, con determinazione, lavorando come garante di tutti i consiglieri e cercando di essere il più imparziale possibile, perché chi fa il Presidente del Consiglio Comunale deve avere obbligatoriamente il massimo del rigore e anche il massimo dell'imparzialità. Questo ho fatto, credo di aver fatto il massimo per la mia città, rimango nel ruolo di consigliere comunale semplice, ma continuerò a lavorare dalla Regione Marche per la mia città, che è la città di Fano.